No, no, no! Cosa ce l'hanno fatta? È incredibile! Li fermerò, dovesse essere l'ultima cosa che faccio! Ecco le pettici del vulcano! Quel bagliore! Scommetto che è la gemma magica! Ci rimane da scoprire come attraversare il fiume! Non sembra profondo! Forse posso portarvi io! Oh, forse no! Preferirei evitare di diventare cibo per coccodrilli! So come fare! Prima costruirò una fionda gigante! La porterò al massimo dell'estensione! E poi mi lancerò! Proprio oltre i coccodrilli! Ciao! A pensarci bene, forse la fionda non è l'idea migliore! Ci siamo così vicini, dobbiamo solo trovare il modo!